Sono Don Stefano Cascio. Sto per diventare paroco in una periferia di Roma. Una grande sfida in un momento difficile per la nostra Chiesa. E proprio per questo, prima che mi sia affidata una comunità di fedeli, ho deciso di fare un viaggio e conoscere altre comunità più lontane, spesso oppresse dalle condizioni di minoranza e dall'esclusione, ma che al tempo stesso crescono forti e solidi. Un viaggio nella complessità del rapporto tra fede e libertà. La scala verso il paradiso, il cielo. Allora, tu sei diventato paroco oggi. Oggi stamattina ho ricevuto il mandato, verrò ad abitare nella casa parrocchiale che sta dietro la Chiesa. Il Signore sia con voi. E con il vostro spirito. Come vi hanno costretto a partire? Come è successo? Noi viviamo con i musulmani qua, sono i nostri vicini e i terroristi sono infiltrati dentro. Io fino a da sei anni sono qui, non ho avuto mai nessun problema, neppure con i musulmani, neppure con i cristiani. Infatti, io cerco di aiutare tutti e due di venire all'uno all'altro. Ricchi vogliono giocare tutti in cricket. Calcio in Pakistan è lo sport dei poveri. Ah sì? Ah sì. E io come ho contatto con solo i poveri, allora io faccio calcio per loro. E io come ho contatto con solo i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini. E io come ho contatto con solo i nostri vicini. E io come ho contatto con solo i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini. E io come ho contatto con solo i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini. E io come ho contatto con solo i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini e i nostri vicini.